Rimentolati in questo nuovo episodio di GTA V Sono Necromante E siamo qui con Lester Abbiamo appena fatto il resoconto del... La gioiegneria dove dovremmo andare a rubare le gemme Non per un pro Beh, mappando le opzioni E mostrandovi tutti gli angoli E' la mia area di esperienza professionale E' la mia decisione E' la vostra, mio amico 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 Ricordi i venti? Se siamo sbagliati Poi mettere un gatto gas Trosso il sistema di luogo E' la città E' la vostra, con il resto E' la vostra, di più Ma straccia il gatto Ma il controllo di te E' la vostra, che dovrebbe migliorare la take La scuola è la peste controllo Quindi no uno si può stare a volte Quando sei wearingi le maschi Non ci sono una peste controllo Ma un bambino Ma un po' di più E' la vostra, mio amico E' la vostra, con i bambini E' la vostra, con i bambini Non possiamo comprare Ma non ci sono Nelio, abbiamo trovato Nelio in circolazione E' la vostra, è Ah, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS river. All right, I want my guy Franklin on the street, he can handle a bike. All right, if you go out for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Beh, ve lo dico dopo. Faccio pause e vado in bagno prima. Ok, allora, dopo aver... ...defecato... ...dico che la forza... ...allora, la forza... ...ci tocca... ...ehm... ...trovare delle robe. ...stessa cosa astuzia. Però se entriamo con la forza ci ritroviamo la polizia addosso. Se entriamo con l'astuzia no, quindi io direi astuzia, sinceramente. Mmm... ...o no. Ma dai, andiamo con l'astuzia. Ah, ok. Eh, faccio quello più forte, mi sa, scusate. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Perchè mi fa scegliere fra quegli scarsi e quelli di no? Io sceggo quelli più forti, scusa. 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 Vai, prendo due che lo conosciamo già. Sì, vai, siamo sicuri, dai, vai, facciamo sta rapina, porcacca. Scusa. Cosa? Devo cominciare di io? Eh. Eh, questo non avevo pensato. Nesta, il maledetto non mi aveva detto che io dovevo cominciare io. Esther, non me l'avevi detto. Ok, usciamo di qui, vai. Allora, mo non so cosa dobbiamo fare. Cioè, seriamente, allora abbiamo un bel po' di robe da fare, da quel che ho capito. Oh, ecco, spe. Ciao, Fred Green. Ehi, sono Michael. Che si dice? I soldi per quella casa che abbiamo abbattuto. Non è esattamente un discorso incoraggiante. Ok, allora, da quel che ho capito dobbiamo convincere le persone. Trovare il gas e trovare il furgole. E Fred Green si occupa delle moto. Guarda che posa figa, Michael. Adesso. Oh, non mi fa muovere. What the fuck? Non mi fa scu... Le icode, non me le fa muovere. Ok, adesso io devo capire. C'ho robe da fare con Michael. Devo trovare le varie cose. Cosa me le fa fare con Franklin? Vabbè. Michael, ci si vede dopo. Franklin, mi venuta la tua prima rapina. Che devo per forza portare? Fred, che c'ho poco bene. Bravo, Cuccio. Verrà un signore. Puoi di stare ad arca. Allora, aspetta. Non ci credo. Mi suonano. Ciò significa solo una cosa, ragazzi. Che per questo video è tutto. Mi dispiace, oh, ragazzi. Abbiamo solo parlato con Franklin. Però mi suonano. Io devo andare perché ho cose più importanti da fare. Qui c'è Franklin. Ci si vede nel prossimo video. Dai, raga. Ciao. 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 Grazie.